Un abbinamento insolito per la pedana Però molto valido per la caccia E in definitiva il fucile che stiamo usando Il Victoria della Beretta È un fucile da caccia La cartuccia è la Fiocchi HP37 Che già dall'aspetto Dice tutta la sua potenzialità Il vecchio affidabilissimo bossolo Delle classiche Super Fiocchi Che ricorderanno i cacciatori Con tante primavere sulle spalle È già di per sé una garanzia di riuscita Nei tiri estremi La borra a bicchierino La borra in sintetico naturalmente a bicchierino È i 37 grammi di piombo Spediti a una velocità molto sostenuta Intorno ai 360-370 metri al secondo Potranno fare a caccia delle cose molto belle Non garantiamo nulla qui sulla pedana Perché non è proprio tanto il nostro mestiere Però le proviamo e sentiamo un pochettino L'effetto che fanno sulla spalla Con questo fucile L'effetto che fanno L'effetto che fanno